Certo di portare avanti questo discorso delle tradizioni, sperando di poter continuare con altri eventi simili. Purtroppo questa sera il maestro Marcello Colasurdo, che è l'anima di questo gruppo, doveva intervenire purtroppo per motivi di salute, problemi di deambulazione, non è potuto intervenire e ci ha mandato un messaggio audio che adesso ascolteremo. Saluto l'assessore De Angelis che è presente in rappresentanza del sindaco e tutti voi che siete sono pronti con l'audio? Ok, grazie. Ciao, saluto a tutti voi di Sorrento e spero di venire presto. Con questo momento non posso venire perché non posso triangolare, però spero di venire presto. un saluto a tutti voi, un abbraccio a tutti, un abbraccio, un bacio, ciao. E come dice Colasurdo, medie? Medie da Damburriate che è una guerra. Forza Marcello! Un applauso al grande Marcello Colasurdo. Mi approfitto, visto che ci sei anche qui, di presentare tutta la parte. Vesuvius, essendo anche il leader, così presento una alla volta tutti quanti, prendiamo anche postato. Iniziamo questa bella serata, viaggio nelle tradizioni popolari. Purcinella, sono io che sono Angelo Iannelli, facciamo anche un applauso. Io ripresento il veterano del gruppo, lui è felice, detto Ticicette, guadagno, guadagno, felice, detto Ticicette, cantore della tradizione, che dopo ci delizierà con i suoi canti affigliore, giusto? Andiamo sempre avanti, dal più anziano al bambino. Vieni, vieni, vieni. Giorgio, 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 Giorgio. Lui si fa chiamare Giorgio, giusto? Giorgio, quanti anni hai? Otto anni. Lui è il più piccolo che suona lo strumento della Tammuola. Dopo dovrà leggere la campagna che piace e la trasmissione dalla persona anziana ai bambini, quindi non c'è cosa più bella. Andando avanti abbiamo un maestro della Tammuola, Sabatino Esposito. Dopo vi incanterà con il suo ritmo della Tammuola. E qui vicino a me c'è il maestro salsofonista Salvatore Segono. Facciamo un applauso, voglio sentire le mani. E abbiamo alla crisi armonica e anche cantore, il maestro Mario Menna. E ancora il cantore, nonché musicista, grande artista, Tony Saggete. Buonasera. E non dimenticare dolci sti in fondo, per un gruppo folcloristico, una paranza fatta di tradizione, ci sono sempre i danzatori, i ballatori, i maestri del ballo. Qui in Italia, delle tradizioni popolari. Carlo e Rosa Norino. Facciamo un applauso. E adesso pulcinella apre questa serata. Donate, donate la mia. So, pulcinella, pulcinella tuoi. Chacione. Chacione la mia. Affacchita. Ma che fai là? Sto a sorriendo. Se tu vieni qua, ti rompo un vasile peggioville, peggioville, coppa la prontella dello naso. Che fai? Non vieni. Stai venendo. Stai venendo. Stai venendo. Stai venendo. Stai venendo. Stai venendo. Villa Fiorentina Assurriata